Allora, Mabiglia pronta per questo debutto, La Finestra sui Cortili, il primo titolo che create voi. Tutto nuovo, sì, tutto nuovo come lo spettacolo del resto. La Finestra sui Cortili perché bisogna guardare un po' indietro i nostri ricordi, le nostre tradizioni italiane e valorizzarla, perché noi diamo veramente tanto tesoro in Italia, per cui, signori italiani, mi raccomando, crediamoci più in noi stessi, perché forse è la cosa migliore da fare oggi come oggi. E vedremo una Mabiglia con i suoi soliti vestiti belli, eleganti, lustrini, paillettes. Ebbè, come si fa? I legnesi fanno parte anche di uno spettacolo dove c'è tanto sfarzo, per cui ci saranno tantissimi balletti, specialmente uno che al finale del primo tempo è dedicato all'italianità, per cui al nostro bianco-rosso e verde e a tanta tarantella, che è appunto la musica più conosciuta al mondo italiana. Perché bisogna venire a vedere lo spettacolo? Bisogna venire perché oggi come oggi, con la crisi che ci attanaglia, bisogna ridere. E la gente ha voglia di ridere, ha voglia di parlare, per cui noi, con noi, con il nostro pubblico, comunichiamo talmente tanto che anche il pubblico diventa attore. Grazie mille. Grazie.